Nel presentare questa iniziativa lei ha detto la cultura dei quartieri in biblioteca, cosa vuol dire? Il progetto che oggi abbiamo presentato è un progetto che intende valorizzare 5 delle nostre 24 biblioteche di quartiere, sono biblioteche che offrono accesso gratuito e sono naturalmente luoghi di lettura ma anche luoghi di cultura. Con questo progetto vogliamo lavorare per far interagire sempre di più la cultura del quartiere attraverso le associazioni che operano quotidianamente nei quartieri e le biblioteche, in modo che le biblioteche diventino dei luoghi nei quali esprimere, dialogare, portare esperienze, e quindi luoghi che siano anche luoghi di integrazione e di incontro tra culture diverse. Sono 5 le biblioteche a Crescenzago, Venezia, Tibaldi, Chiesa Rossa, Baggio, è un progetto che estenderemo a tutta la città, è un progetto che vede partner Fondazione Cariplo, Fondazione Vodafone e un investimento anche da parte del Comune. La cultura per tutti è un obiettivo importante e attraverso questo progetto cerchiamo di dare risposte a una cultura che deve essere sempre più coerente con quelle che sono anche le nuove esigenze e deve essere anche sempre di più luogo sociale perché possa creare occasioni di incontro anche per chi non ha ancora accesso ai luoghi di cultura o addirittura per chi in situazioni o in particolari momenti di disagio possa trovare nelle biblioteche un punto di riferimento. Per questa iniziativa come nasce questa idea? Nasce da alcuni elementi molto precisi, primo la Fondazione Cariplo ritiene la cultura un elemento fondamentale della nostra convivenza e della coesione sociale e quindi mentre tutti tagliano la cultura, cosa serve la cultura? Noi abbiamo deciso di mantenere i livelli erogativi nel settore della cultura ai periodi diciamo anticrisi. Anzi, proprio su questo progetto delle biblioteche rispetto al primo anno che ha sempre un contenuto di sperimentazione nel 2009 nel 2010 abbiamo raddoppiato, era un milione nel 2009, abbiamo portato 2 milioni nel 2010 e abbiamo già confermato per il 2011 perché abbiamo già approvato il documento programmatico, il bilancio preventivo 2011, 2 milioni. La cultura nelle periferie più degradate, più malmesse dove la convivenza civile, la coesione e disgregazione purtroppo dal punto di vista sociale perché diventa un elemento fondamentale di stabilire relazioni, convivenza ai giovani di interessarli a delle attività di carattere culturale. Noi abbiamo anche un progetto sulla creatività giovanile, cioè impegnare i giovani a esprimere la loro creatività e i loro interessi. Naturalmente la cultura è anche portare, che so, la musica che ai giovani piace, a me magari non piace, mi disturbo, sembra più un rumore che non è, ma loro e quindi queste attività di carattere culturale, in questo caso le biblioteche, sono anche un elemento importante perché nella biblioteca non si va solo a prestare libri, ma se la biblioteca fa anche attività, dibattiti, approfondimenti, si parla, si stabiliscono in fondo. Noi abbiamo bisogno di togliere la gente dalla loro solitudine, dal loro individualismo, soprattutto nelle periferie degradate perché in centro di Milano ci sono i bei negozi, le bottiglie, ci si lucidano gli occhi passando via, ma noi pensiamo come vivono questi anziani, questi giovani, queste persone senza lavoro. Ecco perché noi ci concentriamo sulle periferie degradate, vogliamo, come dice il nostro Cardinale, portare la periferia in centro di Milano. Grazie.